Sento lo sguardo di Gesù e chiedo la grazia che la Chiesa pianga e ripari per i suoi figli e figlie che hanno tradito la loro missione, che hanno abusato persone innocenti. Sono parole forti quelle pronunciate da Papa Francesco all'Omelia in Santa Marta davanti a sei vittime di abusi di sacerdoti. I sei, tre uomini e tre donne provenienti, due per ogni paese da Gran Bretagna, Germania e Irlanda, dopo la Messa hanno avuto incontri individuali con Papa Bergoglio. Ognuno era accompagnato da un familiare o persona di fiducia che aiutava anche per la traduzione. L'immagine del Vangelo è quella di Pietro che incrocia lo sguardo con Gesù uscito dall'interrogatorio e piange. E il Papa implora la stessa grazia. Oggi il cuore della Chiesa guarda gli occhi di Gesù in questi bambini e vuole piangere. Chiede la grazia di piangere di fronte a questi atti esecrabili, di abuso perpetrati contro i minori, perché si tratta di qualcosa di più che di atti deprecabili. E' come un culto sacrilego, perché questi bambini erano stati affidati al carisma sacerdotale per condurli a Dio ed essi li hanno sacrificati all'idolo della loro concupiscenza. Hanno profanato la stessa immagine di Dio. Davanti a Dio al suo popolo, ha detto il Papa alle vittime, sono profondamente addolorato per i peccati e i gravi crimini di abuso sessuale commessi dai membri del clero nei vostri confronti e vi chiedo umilmente perdono. Chiedo perdono, ha aggiunto il Papa, anche per i peccati di omissione da parte dei capi della Chiesa. Non c'è posto del Ministero della Chiesa, ha detto per coloro che commettono abusi sessuali, e mi impegno a non tollerare il danno recato a un minore da parte di chiunque, indipendentemente dal suo stato clericale. Tutti i Vescovi e Ammonito Papa Francesco devono esercitare il loro servizio di pastori con somma cura per salvaguardare la protezione dei minori e renderanno conto di questa responsabilità. Il Signore, ha concluso il Papa, ci dia la grazia della vergogna. Quello di ieri è stato il primo incontro di Papa Francesco con le vittime di abusi del clero dopo l'annuncio fatto da lui stesso nel volo di ritorno dalla Terra Santa. Sempre domenica si è riunita la Pontificia Commissione per la Tutele dei Minori, voluta da Papa Francesco e coordinata dall'Arcivescovo di Bosson, Sean O'Malley. Istituita lo scorso marzo, si era riunita una prima volta il primo maggio. Della commissione, composta per metà di donne e per metà di uomini, fa parte anche l'irlandese Marie Collins, vittima di abusi da parte di un sacerdote.